jade cargill ha finalmente scelto il roster di appartenenza che sarà smackdown la ragazza è annunciata per la prossima puntata dello show blu cronologia americana per iniziare la sua nuova avventura sotto la guida del general manager nick aldis nel weekend di breast almenia la wwe tornerà ad assegnare gli islami awards e cioè la sua versione degli oscar e lo farà con uno show speciale presentato da biggie e da katie kelly che sarà trasmesso in streaming domenica 7 aprile e che si svolgerà al wwe world che è il nuovo nome per la convention dedicata ai fan che un tempo si chiamava access secondo il wrestling observer ad oggi è molto probabile che steve austin john cena e the undertaker siano in qualche modo coinvolti nell'imminente wrestlemania marise che nelle scorse settimane si è sottoposta ad una isterectomia completa all'utero ha rivelato che il procedimento chirurgico è stato un successo e che fortunatamente ora è libera da ogni tumore avendo impedito il processo degenerativo e diffusivo della patologia sui social alexa bliss ha lasciato intendere di voler tornare nel ring entro summer slam evento che si svolgerà nel suo stato natale dell'ohio la ragazza peraltro è stata recentemente inquadrata in allenamento in un video girato da amici e familiari segno che si sta dando da fare per arrivare quanto prima alla miglior forma fisica possibile e 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 Grazie a tutti.